Mal tempo, allagamenti e disagi, 15 interventi dei vigili del fuoco in provincia. Incendio al camping La Mimosa di Fano, in fiamme 7 roulotte e uno chalet, nessun ferito. Dal 2 al 4 ottobre arriva la 67esima edizione della mostra Mercato dei Fiori. Sport, weekend di sconfitte per Vis e WL, il Fano costretto a rigiocare il match. Buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, il canale 633 del Digitale Terrestre. Bentornati, un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale Rossini News. In apertura parliamo dei danni e dei disagi che si sono registrati in diversi comuni del territorio a causa del maltempo che ha interessato l'intera provincia pesarese nella serata di ieri. Vediamo il servizio. Blackout, allagamenti, caduta di rami e piante pericolanti. Sono alcuni dei disagi segnalati dai cittadini della provincia pesarese che si sono verificati nella serata di ieri a causa del maltempo intercorso in diversi comuni del territorio. Partendo proprio dal pesarese, come testimoniano alcune immagini caricate sui social, in località Santa Maria dell'Arzilla per la forte pioggia, il manto stradale di via Ferriera che attraversa la frazione abitata è stato ricoperto dal fango. Situazione non troppo diversa a Tavullia. Anche qui, infatti, alcune strade sono state investite dall'acqua. Mentre lungo le silicate, in direzione Gabicce, la circolazione e il traffico sono stati interrotti e poi spostati su un'unica carreggiata per permettere la rimozione del terreno franato a causa del nubifragio. Sempre in serata nel comune di Sant'Ippolito, la strada provinciale 41, al chilometro numero 13, è stata temporaneamente chiusa per il crollo di alcune piante pericolanti lungo l'asse stradale, mentre poteva avere conseguenze davvero serie l'episodio che si è verificato a Fossombrone durante la fiera di San Matteo, dove un albero situato in via Cairoli a causa del maltempo si è spezzato. La caduta del tronco ha interessato una bancarella della manifestazione, ma fortunatamente non sono stati segnalati feriti. L'acquazzone di domenica sera si è fatto sentire anche a Fano, allagando il sottopasso della zona Lido e buona parte di Viale Carducci. Il comando pesarese dei Vigili del Fuoco ha fatto sapere che nella sola serata di ieri sono stati condotti 15 interventi per ripristinare le diverse situazioni di disagio generate dal maltempo. E ci spostiamo ora a Fano, parlando però ancora di cronaca, perché tanta è stata la paura sabato sera dopo le 20 nella frazione di Torrette per il vasto incendio che si è sviluppato nell'area del camping La Mimosa. Le fiamme hanno distrutto 7 roulotte e 1 chalet. Fortunatamente non sono state riscontrate persone ferite dal rogo, anche se grande è stato lo spavento provato dai villeggianti che stazionavano nel campeggio. Sul posto, oltre alla squadra di Fano, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Pesaro e di Senigallia, che hanno lavorato fino a notte fonda per spegnere l'incendio, mettere in sicurezza l'area e verificare che nessuno fosse rimasto incastrato all'interno dei mezzi. Ancora da chiarire la dinamica esatta dei fatti. Esclusa la pista dolosa, mentre si pensa che alla base dell'accaduto possa essersi verificato un cortocircuito che avrebbe poi fatto esplodere anche alcune bombole contenenti gas. E ora cambiamo argomento e parliamo di sanità con gli aggiornamenti relativi all'andamento dei contagi da Covid-19 sul territorio regionale. Come ogni lunedì, il bollettino del Servizio Sanità registra una diminuzione di nuovi casi e di tamponi processati. Nelle ultime 24 ore, rispetto ai 1059 test molecolari e antigenici analizzati, sono 26 nuovi casi di Covid-19 segnalati nelle Marche. Di questi, la metà e quindi 13 sono stati riscontrati nella provincia di Pesaro e Urbino. Sempre nelle ultime 24 ore non sono stati notificati nuovi decessi legati al Covid. 27 invece il numero complessivo di pazienti ricoverati all'ospedale Marche Nord di Pesaro. Di questi, 9 si trovano in terapia intensiva, 11 in semi-intensiva e 7 in area medica. E continuiamo a parlare di sanità perché il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, è intervenuto questa mattina sul tema del nuovo ospedale di Pesaro per ribadire le precondizioni poste al governatore della regione Francesco Acquaroli per trovare un accordo sulla realizzazione della struttura. In primis è stata confermata la scelta di voler costruire l'ospedale nell'area di Muraglia. Oltre a questo, il primo cittadino ha ricordato la necessità che il progetto sia modulare per non compromettere eventuali futuri ampliamenti e infine l'esigenza che venga mantenuta l'azienda ospedaliera Marche Nord. Ricci ha ribadito quindi la volontà di stringere i tempi del progetto seguendo il percorso già delineato e senza modifiche da parte della regione. Cambiamo decisamente pagina. 23 espositori, obbligo di green pass e mascherina e l'area di piazzale Collenuccio destinata alle bancarelle degli obbisti e delle opere d'artigianato. Sono questi gli ingredienti della 67esima edizione della mostra Mercato dei Fiori che arriva a Pesaro sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Vediamo il servizio. Saranno 23 gli espositori che da sabato 2 a lunedì 4 ottobre dalle 10 del mattino fino alle 22 daranno vita in Piazza del Popolo alla 67esima edizione della mostra Mercato dei Fiori e delle piante ornamentali. La tradizionale manifestazione che vede protagonista il settore florovivaistico punta a colorare anche quest'anno il centro storico della città. Confermate le misure di sicurezza adottate anche per altri eventi. Come per la fiera di San Nicola, infatti, anche l'accesso alla mostra Mercato dei Fiori sarà regolamentato dall'uso della mascherina e dal possesso obbligatorio del green pass, che sarà controllato a campione sia all'ingresso che all'interno del perimetro della manifestazione. Siamo alla 67esima e quest'anno ci saranno anche gli obbisti in Piazzale Collenuccio. Abbiamo voluto dare questa possibilità, visto che alla fiera di San Nicola erano stati esclusi. Ci sarà il green pass e quindi il controllo come è stato fatto alla fiera di San Nicola. Quindi manteniamo coerenza in quello che l'amministrazione ha voluto portare avanti. Purtroppo il Covid ha fermato la possibilità di fare altre iniziative, ma comunque avremo il 2, il 3, il 4, la piazza Fiorita. Quindi invito a partecipare a questo evento che è storico per la nostra città. Siamo entusiasti ogni volta che viene la mostra di Fiori a Pesaro. Noi partecipiamo da tantissimi anni come Garden Center Florio. Come dicevo prima, cercheremo di portare la cultura del giardino d'autunno, quindi il balcone, rinnovare il giardino con tutte le piante autunnali, i loro colori, la loro bellezza. E questa è una cosa che stiamo facendo anche adesso nel Garden. Stiamo promuovendo l'autunno in fiore. È un progetto molto bello. Stiamo coinvolgendo anche tanti bambini che cominciamo a piantare i bulbi di questo periodo, quindi lo porteremo qui anche in piazza a proporre come progetto. Confermata anche l'esposizione di Bonsai che sarà collocata sempre in Piazza del Popolo. I portici di Palazzo Ducale accoglieranno invece gli apicoltori da un lato e le opere del pittore e ceramista Tiziano Donzelli dall'altro. Mentre per la prossima edizione, quella del 2022, sono diverse le proposte e i progetti che verranno discussi nei prossimi mesi per rinnovare ed ampliare l'offerta della manifestazione. Come abbiamo già detto in conferenza stampa, vogliamo organizzare per il prossimo anno qualcosa di più innovativo. Parliamo di transizione ecologica e quindi è giusto anche partire dai florovivaisti. Quindi ci saranno dei convegni. Adesso faremo un primo incontro tra qualche mese. ci siamo appunto messo come impegno per il prossimo anno. L'idea appunto è una visione più grande di questa fiera. Mi piacerebbe vedere questa piazza, sì piena di colori come adesso, ma forse più strutturata. Più strutturata come un giardino in cui la gente ci possa camminare, passeggiare e guardare come si evolvono i giardini, come è concepito uno spazio, i volumi, le masse. Quindi un lavoro quasi da paesaggista e l'idea di prendere più spazi della città e adibirli a esposizione e vendita. Se ne discuterà a gennaio, siamo d'accordo con l'assessore, abbiamo già preso in calendario gennaio, in cui ci ritroveremo e potremo discutere, parlare, vedere che cosa si può fare, perché poi magari c'è il Covid che ancora impazza e non riusciamo a fare niente un'altra volta. Però l'idea c'è. Ieri, dopo otto anni di completa chiusura, è stata riattivata la linea ferroviaria subapenninica italica Fabriano-Pergola. Tanto l'entusiasmo manifestato dai partecipanti alla prima uscita del treno storico, che ha permesso agli oltre 200 passeggeri del convoglio di godere di un viaggio panoramico lungo i 30 chilometri di Binari e di visitare alcuni dei siti turistici dei territori protagonisti della tratta, come ad esempio il Museo dei Bronzi Dorati di Pergola. Un'esperienza che sarà replicata già il prossimo mese, domenica 3 e domenica 24 ottobre, e di cui sentiamo qualche dettaglio in più in queste prossime interviste. Questo progetto nasce da un cambio di passo nella visione infrastrutturale della Regione Marche, che vuole interconnettere tutte le vie di comunicazione, da quelle su gomma, sulle vie navigabili con il porto d'Ancona, a quelle legate all'aeroporto di Falconara fino ad arrivare alle linee ferrate. E la riattivazione della tratta subapennina italica Fabriano-Pergola, anzi con il collegamento diretto con il capoluogo regionale, Ancona-Fabriano-Sassoferrato-Pergola, è l'emblema di questa visione infrastrutturale. Quindi la dorsale adriatica, dove noi stiamo puntando all'alta velocità, all'arretramento della linea ferroviaria, al raddoppio della orte Falconara con la sua velocizzazione, ma una rete ferrata interna che rappresenti un anello unico regionale che sia complementare a quello della costa, per creare sinergie tra costa e introterra che rappresentino uno straordinario volano per l'economia marchigiana. Qui siamo in una galleria di servizio della miniera di Cabernardi, nel comune di Sassoferrato, dove lavoravano migliaia di minatori, migliaia di nostri padri che hanno costruito l'economia di questo territorio. E noi vogliamo proseguire su quella traccia valorizzando quel lavoro, valorizzando quel sacrificio, promuovendo questi territori. Quindi sviluppo infrastrutturale, sia con linee primarie come le adriatiche, ma anche linee secondarie, come questa che passa per Sassoferrato e arriva a Pergola. Siamo su questa strada e abbiamo quindi inaugurato un treno, che è un treno turistico, non solo di Ancona, Fabriano, Sassoferrato, Pergola, ma il treno turistico delle Marche. Oggi c'è l'inversione definitiva di tendenza di una vecchia politica degli anni Ottanta, quella dei rami secchi. Oggi riaprono come rami verdi, al servizio di un turismo davvero sostenibile, colto, compatibile con le bellezze della provincia italiana. Ma i lavori fatti oggi dal gruppo Ferrovie dello Stato su queste bellissime stazioni in stile, sul binario, sui muri, sui ponti e sulle gallerie, beh, questo lavoro può servire un domani con una pianificazione attenta a riaprire questa arteria ferroviaria a servizio della valle, anche al trasporto pubblico locale, magari ottimizzando le coincidenze a Fabriano in direzione Roma e in direzione Ancona. Sabato 2 e domenica 3 ottobre riparte la musica Aiuta i bambini a crescere. Il calendario di iniziative per diffondere a Pesaro il progetto nazionale Nati per la musica e il canto corale tra i bambini. Le attività si svolgeranno a casa La Gaida in strada Carloni 12 e le due giornate si apriranno sabato dalle 15.30 con un ciclo di lavoratori per scoprire e sperimentare la musica in famiglia. Il programma completo e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito www.ilgiardinodelevoci.it Confcommercio Pesaro e Urbino Marche Nord ha partecipato nei giorni scorsi con il tour operator Riviera Incoming alle fiere del turismo di Bergamo e di Padova dove è stata rilanciata l'offerta e la proposta turistica dell'itinerario della bellezza. In entrambe le località Confcommercio ha acquisito un proprio stand e ha partecipato con il proprio tour operator Riviera Incoming ai workshop con i buyers italiani e stranieri. E prosegue con due tappe di ascolto il percorso di candidatura di Pesaro a città italiana dei giovani 2022. Il percorso collettivo Young prevede domani martedì 28 settembre alle ore 18 un aperitivo di confronto nel nuovo locale Sportit di Via dell'Acquedotto 23 insieme agli iscritti e i referenti Under 35 delle associazioni che lavorano con i giovani. Si prosegue poi giovedì 30 settembre alle ore 18 al tipo pub di Viale Trieste quando l'amministrazione incontrerà i giovani freelance. La partecipazione agli incontri è libera ma sarà necessario avere il Green Pass. Ed è stato inaugurato nelle scorse giornate a Pesaro l'orologio climatico che ci dice cosa fare e dentro quando per salvare la terra dall'ormai dichiarata emergenza climatica. Secondo in Italia dopo quello installato sulla facciata del Ministero della Transizione Ecologica e già presente nelle maggiori città del mondo l'orologio è allestito sulla facciata di Palazzo Mosca. Vediamo le interviste. Questo orologio climatico è un contenuto intanto innovativo perché è il secondo che viene installato in Italia dopo quello messo al Ministero della Transizione Ecologica quindi forse il primo in un ambito urbano visibile da tutti i cittadini. L'orologio che ha una doppia funzione appunto quella di ricordarci quanto tempo manca al punto di non ritorno rispetto alla necessità di ridurre le emissioni climatiche quindi insomma anni, mesi, giorni costantemente aggiornati da un software ma soprattutto ci indica anche la strada ci indica una lifeline una via della rinascita proprio attraverso le buone pratiche. L'orologio climatico che inaugura oggi misura il tempo rimanente al tasso di emissioni attuali per emettere quello che viene chiamato il carbon budget ovvero la quantità di CO2 massima che l'umanità può ancora emettere in atmosfera per rimanere sotto il grado e mezzo di aumento della temperatura dopodiché si passa a quello che viene chiamato un punto di non ritorno sul target di un grado e mezzo. Oggi la Sonosfera inaugura anche un altro programma che è declinato sui frammenti di estinzione nell'orologio climatico dove appunto insieme all'ascolto degli ecosistemi di Amazonia, Africa e Borneo si ascoltano anche, si vedranno anche i dati degli ultimi rapporti internazionali sullo stato del pianeta vivente e sullo stato del cambiamento climatico. Ma è come in questo momento il clima ci sta dicendo che ha bisogno di essere aiutato la direzione che abbiamo preso in tutti questi anni è una direzione che ci sta portando a dei gravi problemi abbiamo visto tutti i problemi della siccità i problemi di inquinamento l'aumento delle temperature per cui è ora di cambiare marcia e questo è un segnale in più che deve servire ai cittadini a capire in quale direzione stiamo andando Pesera è una città come dicevo che si muove molto dal punto di vista della sostenibilità tutti gli interventi pubblici che stiamo facendo sono interventi di riqualificazione energetica per efficientare al massimo gli edifici per non avere il minore spreco possibile l'incentivazione dell'uso dei mezzi sostenibili la bicipolitana, le piste ciclabili insomma è tutto un progetto che riguarda l'ambiente e la sostenibilità in generale che deve servire a migliorare la vita di tutti i cittadini ed è prevista per giovedì 30 settembre la riapertura del Politeama di Fano un ritorno alle origini per lo storico cinema tornato nelle mani della famiglia fondatrice e che riparte mettendo in cartellone film di qualità, teatro sperimentale ma anche concerti ed eventi speciali il servizio è di Simone Celli nuovi impianti e film di qualità in attesa del teatro è questa la formula scelta dal cinema Politeama di Fano pronto a riaprire da giovedì 30 settembre con gli ultimi successi di Nanni Moretti e Mario Martone prende il via così un nuovo capitolo per lo storico cinema del centro in realtà un ritorno alle origini essendo finalmente tornato nelle mani dei fondatori nonché proprietari la famiglia Casanova è un grandissimo ritorno perché dopo 15 anni la famiglia, i proprietari dell'immobile la famiglia storica che ha fondato il cinema Politeama nel 1924 lontano 1924 riprende in mano la gestione e adesso siamo pronti a servire la città di Fano se la nostra struttura sta arrivando ai 100 anni è merito dei cittadini fanesi e non solo ma anche dei cittadini della vallata del Metauro e anche qualche cittadino pesarese ringraziamo tutti perché se siamo riusciti ad arrivare a questo importantissimo traguardo è grazie all'affetto del pubblico la struttura è stata oggetto di restining a partire dagli impianti e dall'ingresso completamente rinnovato le sale restano tre per un totale di 680 posti ma la capienza sarà chiaramente condizionata dalle restrizioni anti-Covid tutti i protocolli Covid che sono previsti dalle attuali linee guida verranno seguite e poi ovviamente verranno spiegati ai clienti una volta, agli spettatori una volta entrati ovviamente d'obbligo il Green Pass come in tutte le attività aperte al pubblico sono due anni che i cinema hanno subito veramente un duro colpo quindi oggi è veramente una giornata di festa perché non solo nella città di Fano riapre il cinema ma riapre il cinema storico della città di Fano quello in via Arco d'Augusto quindi parliamo del Politeama un grande contenitore di cultura che è stato in questi quasi 100 anni di attività e riapre un cinema gestito da una famiglia che è una famiglia storica della città quindi sicuramente una giornata di festa e una giornata di festa anche per la cultura cittadina e della possibilità da domani per tutti i cittadini fanesi di tornare nelle sale a vedere gli stupendi film delle produzioni nazionali e internazionali in attesa della grande festa per il centenario si consolida ancora una volta la partnership con un cinema di felliniana memoria il Fulgor di Rimini un connubio che darà vita a un cartellone che non comprenderà soltanto cinema di qualità ma anche teatro sperimentale, concerti e tanto altro ancora una proposta sicuramente di cinema di qualità mi piace dire sempre cinema di qualità perché il DC a volte ha questa aurea di elite che non è il cinema deve essere di qualità in tutte le sue sfaccettature quindi nella commedia che speriamo di riprendere nel nostro posto la commedia italiana e in tutte le sfaccettature veramente del cinema non saranno solo prime visioni avremo le prime visioni e quindi di qualsiasi appunto tipologia sicuramente tanto cinema italiano di qualità che quest'anno è abbastanza ricco il parterre insomma citiamo Sorrentino già cominciamo con Nanni Moretti quindi con Cannes e Martone quindi con Venezia insomma quindi abbiamo tanta tanta carne al fuoco però naturalmente la proposta sarà anche di eventi particolari non vogliamo svelare adesso tutto i nostri programmi però sicuramente ci saranno degli eventi dedicati e penso non solo cinema prettamente cinema, documentari e secondo me il Politiama poi si presta tanto altro ha dentro un bellissimo teatro quindi veramente si può fare un connubio anche con quel che è il teatro e la musica e il cinema in fondo è la settima arte e le racchiude tutte e ora apriamo la pagina sportiva del nostro telegiornale parlando di calcio con la Vis Pesaro che ha perso la prima partita stagionale in casa per 2 a 0 contro la Pistoiese e il Fano che a causa di un infortunio muscolare che ha coinvolto l'arbitro dovrà rigiocare il match dell'ultimo fine settimana sconfitta anche la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che all'esordio in campionato ha perso contro Sassari per 75 a 73 i dettagli nel servizio di Edoardo Razzi Dopo la prima vittoria in campionato ottenuta nel precedente turno è arrivata la prima sconfitta casalinga della Vis Pesaro è terminata sul punteggio di 0 a 2 la sfida andata in scena sabato tra Biancorossi e Pistoiese che ha visto gli ospiti allenati dall'ex tecnico pesarese Sassarini imporsi allo stadio Benelli con i sigili di Sottini e Pinzauti un avvio senza precedenti quello della squadra di Mister Banchini che con la rete presa al quarto del primo tempo ha incassato fin qui nei primi minuti di gioco 4 gol in 5 partite troppi per una squadra che vuole ambire ad una salvezza tranquilla come troppe sono le 10 reti subite dalla difesa la peggiore del girone dietro solo alla Viterbese con 11 squadra che la Vis affronterà proprio domani nel primo turno infrasettimanale il rigore sbagliato sabato da Cannavò quando il punteggio era ancora solo 1 a 0 per la Pistoiese non è l'unico rammarico del tecnico Biancorosso che al termine del match si è assunto le proprie responsabilità la squadra ha perso la colpa è mia bisogna lasciare tranquilla la squadra e bisogna pensare di farci lavorare il gol preso ha freddo un'altra volta adesso comincia a diventare sì una situazione non solo più tecnico-tattica ma probabilmente è talmente facile prevederlo no? perché basta dire mi raccomando all'inizio della partita stiamo attenti e se ricapita ancora non va bene io ho detto che le partite si capisce l'importanza delle partite solo dopo averle giocate perché sapevo che questa era una partita che poteva andare a finire così infatti la Pistoiese ci ha battuto con le nostre stesse armi hanno avuto più voglia di noi sono stati più cattivi e a livello agonistico abbiamo perso la partita poi loro hanno determinate caratteristiche hanno caratteristiche secondo me nel 3 contro 3 dietro soffrono particolarmente io ho messo 3 attaccanti centrali e quindi ci siamo andati subito a cercare queste verticalizzazioni e a cercare di rubare palla l'abbiamo fatto bene partita con pochi precedenti quella giocata tra Castelnuovo Vomano e Alma Juventus Fano che al 14esimo del primo tempo sul punteggio di 0-0 è stata interrotta per un infortunio al polpaccio del direttore di gara nonostante le cure dei massaggiatori dello staff delle due squadre l'arbitro Fantozzi ha dato forfè fischiando anzitempo la fine del match e rinviando ai prossimi giorni la decisione sulla data del recupero per quanto riguarda il basket la Carpegna Prosciutto debutta in campionato con una sconfitta Beffarda uscendo dal campo di Sassari col punteggio di 75-73 una buona reazione quella avuta dai ragazzi di coach Petrovic dopo la pessima prova in Supercoppa riuscendo per gran parte della partita a rimanere in vantaggio ottime le prestazioni da parte di V. Sanford che ha chiuso con 22 punti e di Tricky Jones con 16 rimane però il rammarico per la tripla mancata proprio da Sanford sulla sirena finale che ha di fatto negato la prima gioia e i primi due punti alla VL per quanto riguarda la palla ovale sabato è scesa nuovamente in campo dopo tanto tempo la Fiorini Rugby Pesaro con la squadra dell'Under-19 della Serie A impegnata in due amichevoli al Totti Patrignani ad aprire la giornata è stata la formazione giovanile di Pesaro che ha battuto il Perugia per 24 a 12 sconfitta invece per la prima squadra che si è dovuta arrendere al Cavalieri Prato per 7 a 19 e questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo la prima serata di Rossini TV questa sera alle 21.15 la nuova puntata dell'arte della bellezza protagonista di questo appuntamento saranno Micaela e Michela in prima visione quindi questa nuova puntata dell'arte della bellezza questa sera alle 21.15 su Rossini TV e in replica nelle giornate e negli orari che sono indicati nel cartello e dal 1 ottobre l'informazione di Rossini TV torna ad ampliarsi con il Valle Foglie Pian del Bruscolo magazine il telegiornale del territorio in onda quindi da questo venerdì 1 ottobre alle ore 20 sul canale 633 l'informazione sul canale 633 torna puntuale domani mattina alle 7.20 in diretta con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale un buon proseguimento di serata su Rossini TV grazie per averci seguito